La classe G Mercedes è una storia infinita, un'auto che parte dal 1979 e ogni anno negli ultimi che stanno passando si vocifera di un'uscita di produzione, di un nuovo modello, di una nuova versione e in realtà rimane, resta il classico G nelle sue forme che tutti ormai conosciamo e stupisce il mondo con una nuova versione. Tutti voi ricorderanno il 6x6, ha sei ruote motrici, oppure il G500 al quadrato che di recente ha sorpreso il mondo con le sue dimensioni mastodontiche. Quest'anno allo stand Mercedes troviamo il G650 Maybach, quindi una copiata con un nome che è legato fortemente al lusso perché l'allestimento di questa vettura è sicuramente votato al lusso. È una vettura mastodontica, dimensioni importantissime, 45 cm di altezza da terra, lo rendono idoneo a fare un lussuosissimo safari in Africa oppure a scorazzare per le strade dell'Europa facendosi notare perché il veicolo è sicuramente molto vistoso. E sotto il cofano un motore sportivissimo, parliamo niente meno del V12, lo stesso che equipaggia il G65 portato a 630 cavalli capace di 1000 Nm di coppia. Quindi è lo stesso motore che pensate fa da base a quello che va sotto il cofano delle vetture di Pagani. Gigantesche gomme da 325,55 montate su cerchi da 22 pollici, una tiratura limitata a 99 esemplari ed un prezzo che ovviamente sarà inarrivabile perché stiamo parlando di cifre sicuramente superiori al mezzo milione di euro.